Musica Buonasera, bentrovati a Pubblica Piazza. Oggi parleremo di noi, parleremo di noi, parleremo di la C, parleremo dei programmi che abbiamo in cantiere per la stagione autunno-inverno, insomma durante l'estate si assestano i palinzesti, insomma le nostre prospettive, i nostri progetti, i nostri programmi. Lo faremo con uno dei personaggi più competenti della televisione calabrese, non solo calabrese che anche il direttore dei nostri programmi e con noi Francesco Occhiuzzi che ci sta raggiungendo. Che lo stacco di ingresso, beh, direttore come stai? Grazie Francesco di essere con noi in questa chiacchierata, diciamo, libera. Parleremo di televisione? Parleremo di televisione, ma non so, parleremo del sistema televisivo nella nostra regione, dove va la televisione. Francesco Occhiuzzi, parleremo di te, perché poi insomma dietro a una funzione c'è una competenza, la C, insomma, su questo punta molto, sulle competenze. Francesco Occhiuzzi segue ormai da mesi, insomma, un po' tutto l'assetto che ci deve consentire per fare come, si diceva una volta, nel linguaggio politico teorico, massa critica. Oggi la massa critica è Autel, Web Auditel, insomma, gli ascolti e tutto quello che c'è nel sistema della comunicazione. Poi, insomma, Francesco Occhiuzzi ha una storia, dove parleremo, ma la prima cosa che chiedo a Francesco, Francesco, insomma, fai televisione da tanto? Troppi complimenti. Vabbè, insomma, no, 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 no. Io sono un uomo di televisione, però i complimenti sono la cosa che mi imbarazzano di più, non so come uscirmene poi. Come tutti gli uomini di televisione, insomma, intelligenti. Francesco, credo che ti chiedevo un'altra cosa, insomma, tu ormai è tanto tempo che fai televisione, come è cambiata la televisione negli ultimi anni? Ma la televisione è cambiata e continua a cambiare. Ci sono stati dei momenti importanti che hanno dato una svolta alla televisione. Per quanto riguarda l'intrattenimento, la svolta vera e propria l'ha data Maria De Filippi, che ha fatto diventare il conduttore, che era un protagonista delle trasmissioni, no, come ai tempi di Corrado, ai tempi di Mike Bongiorno, il conduttore, ai tempi di Mario Riva, il musichiere, no, che tu ti ricordi. Il conduttore è il personaggio del programma e l'ha fatto diventare meno protagonista, rendendo protagonisti le persone normali. Cioè oggi fa più ascolto raccontare che il vicino di casa ha l'amante piuttosto che un grande personaggio tipo Michael Bublé in diretta che canta dal vivo le sue canzoni più belle. Quindi questo vuol dire che si è abbassato anche il costo riguardo alla televisione ed è cambiata proprio la televisione generalista, che a differenza di quello che dicono tutti, la televisione generalista non morirà mai. Fino a quando ci sarà il mezzo televisivo, la regina sarà sempre la televisione generalista, che è un po' quello che è la C. Quindi come si concilia questo mondo della comunicazione, anche lì televisiva, perché poi ci sono contenuti che vengono guardati, l'invenzione dell'All On Demand, che ha portato soprattutto Sky TV, rivoluzionando il sistema anche degli ascolti televisivi, di tutto quello che c'è. Ecco, come si concilia tutto questo? La televisione continua a rimanere la regina, però c'è dall'altro lato la rete che sbanca anche come… Assolutamente sì. Cambia il modo di vederla la televisione, perché la televisione a lungo andare sarà sempre più on demand, però le due cose viaggiano di pari passo. Anche perché il target age di riferimento, cioè l'età di riferimento, è completamente diverso tra la televisione generalista, per dirne una, la più generalista delle televisioni italiane, Rai 1, e il pubblico che segue i social, che segue il web. Quindi le due cose viaggeranno di pari passo, però la regina sarà sempre la televisione generalista. Francesco, poi parleremo dei nostri programmi, perché è importante capire anche dove andiamo. Dietro una programmazione televisiva, dietro un palinzesto c'è un lavoro che è anche fatto di studi, di osservazione. Non è una cosa così, quando io dico che ci vuole competenza per fare un palinzesto, il palinzesto… Ci vuole un po' di esperienza, di averla fatta, di averla vissuta… Il palinzesto è una cosa complessa. È una cosa difficile, perché una cosa che va bene oggi, probabilmente fra due settimane non funzionerà più. Lì c'è bisogno solo di intuito, il palinzesto lo puoi fare se hai un minimo di intuito e capisci come girano le cose. Non è semplicissima, quindi bisogna trovare gli incastri giusti e naturalmente poi bisogna sempre fare i conti con i dati di ascolto. Francesco, alcuni sostengono le varie correnti del pensiero sulla comunicazione televisiva. L'America è sempre avanti. I modelli che vengono d'oltre oceano, i modelli anglosassi, non è così secondo te? La televisione l'hanno inventata gli americani. La televisione americana continua ad essere quella alla quale ispirarsi, noi ci ispiriamo alla televisione americana. Il talk show per esempio, che oggi in Italia, questo è un talk show, però il talk show l'hanno inventato gli americani. Jane Lino, per dirne uno, o David Letterman, uno degli ultimi, sono stati sempre i protagonisti della televisione americana. Oggi anche in Italia si fa quel tipo di televisione. Un po' riadattata la formula europea, perché non è proprio in quel modo, però diciamo che i capi scuola di questo genere sono gli americani, sono stati gli americani, sono gli americani. Intanto, insomma, Francesco Chuzzi, vediamo un po' una panoramica che hanno trovato in regia, per dire, insomma, facciamo un po' vedere tutto il percorso, quello più visibile, poi di quello meno visibile ne parleremo qui in studio. Eccola qua, l'edizione 2001 di Maliziosamente. Si parlava nei giorni scorsi di grandi numeri, beh, eccoli qua i grandi numeri, soprattutto l'orchestra di Maliziosamente, l'applauso del pubblico per l'orchestra. Se tu dovessi conquistare un luogo, no? Sì. Con un sms. Sì. E tu avessi a disposizione una sola parola, che cosa scriveresti? Scriverei, e quindi? Carina questa. Parliamo di massaggi, non è un massaggio particolare, solo che adesso sono curiosa, perché voglio capire, vorrei sapere cosa ha combinato Francesco Chuzzi, dove è andato, cosa ha fatto, sempre con quel mondo, sono sempre lì dentro. Ciao, eh, Francesco, sempre, scusate, sempre lì dentro. Francesco, o più, non tu, eh, o più. Ah, siamo in onda, buongiorno Patrizia, buongiorno Patrizia, buongiorno, e sai una cosa? Ho imparato a fare i massaggi indiani. Sì, dai, fammi fare questa scalinata, Francesco. Sai, molte, molte donne dicono, guarda a me non fare, fare la scala, fammi entrare da qualunque parte del palco, anche dall'americana, dal tradizio, ma non dalla scala. A te piace fare? Mi fa molto Sanremo questa scala. Diamo, aspetta, eh. Questo saluto affettuoso al pubblico italiano parte da Sanremo. Benvenuti, grazie, buonasera, benvenuti alla prima puntata di Che Colpa Abbiamo Noi. Staremo insieme per quattro settimane, parleremo di anni 60 e di anni 70, gli anni più belli della musica italiana. Ascolteremo tante canzoni, parleremo di televisione, quattro settimane insieme a parlare di musica. Insieme a me e a voi, il maestro Paolo Aragona. Ok, ok, munisci. Caraiuma. Chiamo un fantese. Molti hanno attribuito il tuo successo alla somiglianza con la venere Naomi Campbell. Questo ti ha provocato qualche sofferenza o ti ha fatto piacere? Mi ha fatto piacere all'inizio, perché essendo una bellissima donna mi ha fatto piacere all'inizio. Edizione 2002, proprio nel segno della continuità, quest'anno vogliamo regalarvi una serata particolare. Una serata soprattutto all'insegna della moda, perché avevamo constatato che si era un po' spostato l'asse. Invece di una grande serata di moda, stava diventando una grande serata di musica leggera, con tanti ospiti molto attesi. Invece quest'anno abbiamo puntato sulla moda. Colpevole di averti incontrata, non so neanch'io perché. Colpevole di un palpito, che mi ha toccato nel profondo. Colpevole di averci provato. Colpevole di averci provato. Oltre un ventennio. Mi ricordo una cosa, a proposito di chi li faceva i confronti, il peso forma di oggi, quando facevo Rete 4, quindi quando facevo Mediaset, c'era il direttore della trasmissione, il capo struttura del programma, che assolutamente mi chiedeva di stare in quel peso. Dovevo restare in quel peso. Anche Cilurso mi ha chiesto di dimagrire. A me io ho fatto mettere una formula sul contratto, diciamo che è impossibile che io mantenga. Ma a proposito di Mediaset, tu sei uno dei pochi conduttori calabresi, diciamo che ha avuto una serie di collaborazioni, ha lavorato in quei termini con Mediaset. Mediaset è stata anche qui. Insomma, se l'America è antesignana sulla televisione, Mediaset ha rivoluzionato la televisione in Italia? Assolutamente sì, perché fino al periodo in cui non c'era concorrenza, la Rai a un certo punto spegneva i motori, cioè praticamente la sera dopo un certo orario non si programmava più. E comunque si era adagiata sugli allori. Come arriva la concorrenza, questo ha stimolato anche la Rai. A parte che Berlusconi, proprio lui, cioè Silvio Berlusconi, non Pier Silvio perché oggi probabilmente è campa di rendita. Non c'è dubbio. Ma Silvio Berlusconi, secondo me è stato un grande direttore della televisione, è stato colui che ha inventato tutta una serie di trasmissioni nuove e ha innovato il modo di fare televisione in Italia. E questo ha stimolato anche la Rai, che oggi produce dei format interessanti. Tu inizi, insomma, sei un personaggio televisivo, insomma, sei un collega anche giornalista perché poi, insomma, queste trasmissioni ci vuole anche il piglio giornalistico per condurle, gli vari ospiti che si susseguono. Insomma, tu inizi però sempre tra il Litterman, diciamo, statunitense, però il Paolo Limiti, che tra l'altro in modo magari è italiano, perché poi tu ti accompagna una passione, che è quella musicale. Io sono molto appassionato di due decenni musicali, i due decenni dove è stato inventato praticamente tutto e ancora oggi si copia da quei due decenni. La rivoluzione musicale arriva naturalmente negli anni Sessanta con i Beatles, quindi si parte da lì e finisce il 1979, diciamo, nell'ultima parte degli anni Settanta con i grandi cantautori italiani. In questi due decenni, secondo me, da un punto di vista musicale è stato scritto tutto. Oltre quei due decenni ogni tanto c'è qualcosa. Anche i personaggi musicali, i grandi cantanti, i grandi autori, i grandi personaggi della musica, in quell'ambito, in quell'ambiente non c'è stato un ricambio generazionale vero e proprio. Oggi un Claudio Baglioni, un Modugno, un Morandi, una Mina, non ci sono nelle nuove generazioni. Negli anni Ottanta c'è stato qualcosa che è arrivato un po' Antonacci, Ramazzotti, però i grandissimi della musica della generazione italiana sono stati negli anni Sessanta e negli anni Settanta. Quindi c'è un problema anche qui, anche nel ricambio generazionale per quanto riguarda la musica. Cioè non c'è qualcosa di innovativo che rompe sul campo. Non c'è nulla di innovativo se non delle sonorità che vengono ricalcate, ricopiate. Delle riedizioni, io ho visto l'ultimo vincitore del Festival di Sanremo che vince con una melodia che insomma era dove c'è, anni Sessanta, anni Settanta, anche qualche ritmo degli anni Ottanta. Oggi si scrive la musica a tavolino, per esempio la canzone di Sanremo è stata sicuramente costruita a tavolino, quella è stata un'operazione commerciale progettata per arrivare, anche se intelligente come partitura, come testo e già sapevano dove andavano a parare. Quindi è stata tutta concertata a tavolino. Oggi non c'è più l'estemporaneità dei vari, come dicevo, Modugno, dei vari personaggi, dei Beatles. Perché i Beatles, Paul McCartney prendeva la chitarra e scriveva una canzone. Paul McCartney ha fatto un sogno, si alza la mattina dopo, si siede al pianoforte e compone Yesterday. È chiaro, è la fidata all'eternità perché insomma quelli sono veramente colpi di genio. Anche sul piano degli autori, diciamo, è un mogol, a parte i cantautori che come dicevi, i grandi si sono esauriti intorno al 79. Anche la linea della scrittura non è più uguale a quello che è stato scritto in precedenza. Cioè le grandissime pagine musicali scritte da mogol, accompagnate, queste pagine, dalla musica di Battisti, oggi non esistono più. Abbiamo ogni tanto qualcosa che arriva da Vasco Rossi, che rimane un grandissimo. Abbiamo qualcosa che rimane da qualche altro autore, qualcuno intelligente dei nuovi. Per esempio, tra i nuovi, Brunori Sass ha qualche idea nuova, che fra l'altro è un calabrese, Dario Brunori. Però i grandissimi sono sempre, diciamo, relegati a quel periodo preciso. E quindi io sono un appassionato anche del costume degli anni 60. Gli anni 60 hanno rappresentato una rivoluzione di costume in tutta l'espressione. Poi vedremo qualche frammento di questa nuova trasmissione che fai per noi qui, che è insomma Occhio. Ci vuole Occhio. Ci vuole Occhio. Doveva essere Ci vuole Orecchio. Però poi... Vabbè, Occhio Chiuzzi. Insomma, c'è... Che però è molto piacevole, perché è un'intervista, però poi... Partiamo sempre da lì, dal mio mondo, perché io nasco come conduttore radiofonico, cioè la mia grande passione, la mia storia comincia nel 1979 con la radio. Quindi ti ha passione, cioè la tua passione, questo mestiere, è insomma la radio. Quindi le tue esperienze in radio quali sono state? Allora, io ho fatto una serie di radio locali importanti, insomma, in Calabria Radio Paola, eccetera, le radio degli anni Ottanta, le prime radio libere. Poi vado fuori, faccio Radio Marconi, fino ad arrivare al 1991 a Radio Monte Carlo. Quindi è stata una partenza e un arrivo. Da lì in poi ho scoperto il mondo della televisione, oppure qualcuno mi ha scoperto, mi ha scoperto, insomma, mi ha preso, mi ha portato in televisione e questo qualcuno era Patrizia Rossetti. La mia storia televisiva comincia al contrario, è cominciata dalla nazionale, non dalla locale. perché feci uno spettacolo negli anni 90 con Patrizia Rossetti, la quale mi disse guarda, ma tu sei bravo, perché non, da quanto tempo fai televisione? Patrizia, io non la faccio, non l'ho mai fatta la televisione, io faccio la radio e faccio qualche spettacolo dal vivo, facevo il conduttore degli spettacoli live. Lei disse no, non è possibile, mi prendi in giro. No, non è vero, io faccio la radio, faccio il conduttore radiofonico, faccio degli spot, ora, stavo facendo gli spot in quel periodo per Radio Monte Carlo, per il Partito Socialista Italiano e mi ricordo che Craxi a Roma voleva gli spot con la mia voce, stiamo parlando del 1991. E Patrizia disse no, no, allora facciamo una cosa, io ti faccio chiamare per un provino a Mediaset, pensavo fosse una cosa così di una cena, di una sera dopo uno spettacolo. Mi chiamarono nel 1996 ad agosto e mi dissero, arrivava una telefonata, pronto Francesco, sono Lisetta Sorrentino di Mediaset, io pensavo era qualcuno che mi prendeva in giro, insomma le solite telefonate sono Gigi Ariemma di Radio Bruxelles. No, senti la telefonata, dopo un po' collegai il fatto all'invito di Patrizia Rossetti, mi invitarono a Milano, andai a Milano, feci un provino, appena arrivato a Milano, questa era una casa di produzione che era la Claxon Production, che produceva tre programmi, quello che feci io poi casa per casa, fuego una trasmissione di Patrizia Rossetti e target un'altra trasmissione condotta da Gaia De Laurentiis. Mi dissero, mi trovai in una riunione per un colloquio, in questa riunione c'era Nuccio Ambrosino, che era il regista di Giochi Senza Frontiere, ti ricordo di Giochi Senza Frontiere? Sì, come no, spopolò, la nostra generazione spopolò. Daniela la moglie di Mai Buongiorno e dico ma cosa faccio io a questo tavolo, sembrava una cosa un po' un sogno e mi disse questa Lisetta Sorrentino, signor Chiuzzi lei è pronto per fare un provino alle 4, alle due di pomeriggio, facciamo un provino alle 4 in Piazza Duomo, ho detto ma mi ci fate un attimo pensare a preparare psicologicamente, dico vabbè allora lo rimandiamo a domani mattina e mi mandarono a fare un provino a Bergamo, quindi feci questo provino a Bergamo e me l'andai, ritornai a casa, arrivo questa telefonata, Francesco sono Lisetta Sorrentino, abbiamo visto il provino, lo mandiamo già in onda, è un servizio già pronto per andare in onda, dal 14 settembre 1996 ho fatto praticamente 80 puntate di Rete 4 per 3 anni, il programma si chiamava Casa per Casa, poi questo programma fu superato negli ascolti in famiglia, un programma che fece Rai 2 con Tiberio di Imperi e naturalmente una volta che tu vieni superato e il programma viene soppresso, hanno soppresso il programma e quindi siamo... Quella è la logica del mercato. Siamo ritornati tutti a casa. In quel periodo invece di partecipare alle cene, perché sono le cene importanti, anche con Paolo Limiti stesso, insomma diverse cene, diverse cose, io preferivo andare a fare le serate perché la popolarità che mi aveva dato quei 3 anni di Mediaset mi fecero prendere un bel po' di serate in tutta Italia, mi chiamavano a condurre le serate dappertutto, le feste, insomma, nelle piazze e preferivano andare lì per guadagnare dei soldi invece di partecipare alle cene, invece le cene erano importanti perché nelle cene si costruivano. Si gioca la biblical relation, questo lo capì dopo. E vabbè, ma insomma, gli anni... Perché una volta che poi esci dal giro non ci rientri più facilmente. Intanto, poi andiamo a vedere insomma come stiamo costruendo il modello programmi Laci News 24, vediamo questo ultimo lavoro, perché poi non dimenticate che Francesco è anche autore, perché insomma non è solo un conduttore, è un autore, è un creativo della televisione. Mi stai facendo un mega spot? No, 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 lo facciamo a noi perché insomma ogni tanto bisogna dire nella nostra testata ci sono fior di professionisti, perché sono in molti che ci dicono ma come mai Laci... Poi parleremo un po' del sistema radio televisivo calabrese. Vediamo l'ultima fatica che insomma sta andando in onda in questi giorni e che appunto... Ci vuole occhio. Ci vuole occhio. Devo dirti la verità, hai tirato fuori un'idea molto interessante, un po' vintage, si vede sempre la tua grande capacità autoriale di tirare fuori delle belle idee. Tu lo sai che hai fatto con poco poi alla fine. Sì, beh beh un giradischi... Un giradischi, è un'idea, bravo. E il tuo cuore come sta Gianvino? Questo lo dobbiamo mettere a 45 giri, tu ti ricordi la differenza tra i 33 e i 45? 33 e i 45, ecco. Questo lo dobbiamo mettere a 45, vediamo un po' se ci riusciamo. Penso proprio di sì. Siamo? Ti ricordi? È quello. Guarda, il cuore matto per tanti motivi, anche per l'attesa, no? Non dovrebbe fare un plauso a tutti i privati, le associazioni private, le società che organizzano degli eventi importanti e questo non fanno altro che fare bene al turismo. È un personaggio che racconta, raccontato per tanti anni d'estate. Rivediamo un pezzetto di quella canzone. Tre settimane da raccontare. Fred Bonguso. Brillanti sparsi sulla pelle bionda, tu esci come Venere da l'onda. Da domani con Ci vuole Occhio. L'ultimo capolavoro, non ti rivolti nella mala fede, poi firmi con la tua penna d'oro. Eh, il vintage. C'era De Gregori che suonava. I tuoi miti musicali? Ma i miei miti musicali sono innanzitutto i Beatles, quindi per me i Beatles e poi la grande musica italiana, i grandi interpreti italiani, i grandi cantautori, naturalmente tutta la scheda dei cantautori degli anni 70 e fra gli interpreti Mina e naturalmente Morandi, sempre Verde Morandi che adesso ha sfornato questa nuova canzone, è diventato il tormentone dell'estate insieme a Fabio Rovazzi. Un evergreen, c'è un ragazzo di 73 anni. Ci sono alcuni intramontabili, non solo quelli che conosciamo come Morandi, uno come Vasco Rossi, ormai ha attraversato una serie di generazioni, come spieghi questo fenomeno? Ci sono questi personaggi che trovano la chiave giusta e riescono a parlare a tutti, dal giovanissimo al meno giovane. Vasco Rossi lo ha dimostrato con l'ultimo evento trasmesso fra l'altro da Rai. di essere veramente il numero uno per quanto riguarda la musica italiana e non solo, perché questi eventi sono paragonabili ai grandi eventi internazionali, non so, i Pink Floyd per dirne un evento importante, questi grandi eventi arrivano una volta ogni tanto, non ci sono sempre, quindi bisogna viverli e godersi e Vasco Rossi rappresenta veramente un grande, sia per quanto riguarda la scrittura, sia per quanto riguarda l'interpretazione. Una volta questi grandi eventi in Italia, faceva Celentano, no? Celentano ogni tanto riuniva i suoi estimatori negli Stati, fu uno dei primi, insomma, degli italiani a riempire gli Stati. Anche Celentano resta una delle voci più belle, no? È uscito l'ultimo disco, Celentano in Mina, è una copiata straordinaria. Stiamo parlando di… Nessuno ha quel tipo di voce di Celentano, quella capacità di trasmettere l'anima… Stiamo parlando di uno che ormai ha un passo dagli 80, Celentano è un passo dagli 80. Sì, ha 80 anni, sì, il 79-80. Il 79 è del 38, mi ricordo. Ci fermiamo un secondo per la pubblicità, poi riprendiamo la nostra incacchierata. Nuovamente a Pubblica Piazza, riprendiamo questa nostra chiacchierata, avevamo detto parliamo di noi, è qui con noi oggi Francesco Chiuzzo, direttore dei nostri programmi, insomma, colui che sta lavorando al palinzesto dei prossimi mesi, insomma, abbiamo ripercorso un po' con lui, molto della sua carriera, per quello che possiamo fare nei minuti a disposizione, la carriera di Francesco, nonostante la sua modestia, è una carriera consistente nel mondo televisivo. Francesco, tu hai conosciuto, insomma, oltre i modelli nazionali, ci hai lavorato con la televisione, ma hai conosciuto anche, insomma, il sistema radio televisivo calabrese, no? Anche in Calabria ci sono state grandi esperienze di televisione, Telespazio, lo stesso Ten, insomma, Videocalabria. Io sono stato in tutte le televisioni calabrese, ecco, per questo ti chiediamo, oggi... Le conosco più o meno, le grandi le conosco tutte, insomma. Oggi però vediamo, tranne l'eccezione nostra, perché stiamo cercando di rivitalizzare... Ma noi siamo una televisione giovane, c'è la differenza fra noi e gli altri, no? Tu prima hai citato i nomi importanti del panorama, che sono Videocalabria, Telespazio, Ten, con i quali ho lavorato con Ten un po' di più rispetto agli altri due, con Videocalabria un solo programma, con Telespazio un paio di programmi, noi siamo una realtà giovanissima, perché per essere anche accreditati verso il pubblico televisivo della televisione locale, che è un pubblico un po' diverso dalla televisione nazionale, perché è quel pubblico che sceglie quel tipo di televisione, quel linguaggio, perché è un linguaggio diverso dal nazionale e naturalmente per entrare ci vuole del tempo, perché una televisione che è già consolidata, che esiste già da un decennio, anche di più di un decennio, ha naturalmente più appeal verso i telespettatori. Noi siamo una televisione giovane e sicuramente abbiamo un po' rotto tutti gli step, abbiamo attraversato, abbiamo un po' sparigliato le carte, perché la C è quella che io, come la definisco, è la più nazionale delle televisioni locali, proprio per l'impostazione grafica, per l'impostazione anche aziendale che è stata data la televisione, perché dobbiamo considerare che a capo della C c'è un grande editore, che è Domenico Maduli e c'è anche un grande direttore generale, sono le due figure, Maria Grazia Fauduto, le due figure che tengono in piedi una struttura e la muovono come una grandissima azienda, probabilmente questa cosa dall'altra parte non c'è e questo si vede subito perché si vede che c'è una grande organizzazione e come ti dicevo prima, proprio per l'impostazione vera e proprio la più nazionale delle televisioni locali, quindi è più difficile per noi fare determinati numeri, perché se vuoi fare la televisione locale significa che mandi il programma attinente al territorio, che parla lo stesso linguaggio e allora arrivi in maniera più veloce, ma se parli un linguaggio nazionale così come fanno le piattaforme nazionali è un po' più difficile. Quindi diciamo qui, tu hai citato il nostro editore, insomma io lo definisco sempre un po' visionario perché... Lui è un vulcano. È un vulcano perché lui prende in mano questa questione quando tutti gli altri della comunicazione un po' cercano di... Io sono molto innamorato dell'organizzazione della C. C'è stato il mio primo periodo alla C, quando feci Occhiuzza alle nove e Pasqualino Maragia, questo programma che è diventato un cult e poi io feci una pausa, andai a fare un programma per otto puntate, un ritorno un po' in un'altra televisione e sono ritornato perché sono sempre... Per come mai sei ritornato? Perché anche quando sono andato via sono rimasto innamorato del modo di fare azienda, del modo di fare televisione della C. E a me piace molto, proprio l'organizzazione generale di questa televisione mi piace. Sì, insomma questo... Se c'è l'occhio innovativo, diremmo così, anche del suo editore che riesce a intercettare i cambiamenti, no, lui insomma oltre a questo modello che noi siamo molto anglosassone, parliamo anche nella grafica, se scorri un po' lo vedi all'estero queste cose qui. E quindi diciamo c'è un appannamento un po', anche se poi questo è sempre un mondo dove la concorrenza è spietata. Ecco, abbiamo di fronte la stagione del combattimento, l'estate è un po'... E' la preparazione. E' la preparazione, ma autunno-inverno è la stagione del combattimento, la gente sta di più a casa. La stagione televisiva è l'autunno. E' l'autunno-inverno, la gente sta più a casa, esce di meno, quindi la televisione conta. Ecco, come affrontiamo, come state affrontando questo? Allora, noi abbiamo fatto, da quando io sono direttore dei programmi, abbiamo fatto un momento di transizione che è stato dall'inizio di giugno e questo ci porterà fino alla fine di agosto, fino al 15 di settembre, dove abbiamo praticamente messo a posto le strategie giuste per questo periodo, per la stagione vera e propria, la stagione estiva. Perché anche d'estate la televisione ha un suo pubblico. Molte volte si pensa che d'estate non bisogna programmare perché la gente va al mare e quindi la televisione la spegne. Sicuramente c'è molta gente che la televisione la spegne e che va al mare e va fuori a mangiare, a mangiare fuori più spesso di spesso all'inverno. Però c'è anche tanta gente che resta a casa. Noi dobbiamo tener conto che il pubblico televisivo che guarda la televisione locale, la gran parte del pubblico televisivo che guarda la televisione locale, dà i 55 anni a salire. Allora, noi dobbiamo programmare per quel pubblico che guarda la TV e che resta a casa. Quindi abbiamo una programmazione dei film giusta, studiata. Abbiamo la commedia che passa in tarda serata. Noi programmiamo, per esempio, la commedia a luna di notte. La commedia italiana, gli anni d'ora della commedia italiana, no? Dove i vari protagonisti sono stati Banfi, Pozzetto. È diventata cult la commedia italiana di quel periodo. E la sera naturalmente abbiamo dei film. Poi ci sono dei format fortissimi, come Pubblica Piazza. Un format, questo te l'ho detto in tempi anche non sospetti, un format che funziona. Ci sono poi dei format estivi, come Pasqualino Maragia, questo format delle 15 che va in onda tutti i giorni. C'è il programma di Gigliotti. Ci sono le rubriche bellissime, straordinarie, le rubriche che riscuotono grandi consensi. C'è la C-Salute, condotta da Rosaria Giovannone, che riscuota i grandi consensi. Mi dicono che non possono tenere il telefono appoggiato perché squilla in continuazione. Qui siamo proprio con una televisione quasi di servizio, no? Perché poi la gente ha voglia di vedere queste cose. La televisione che diventa servizio, che dà consigli. La televisione è fatta per il pubblico che ti segue e fatta anche dal pubblico che ti segue perché arriva in televisione attraverso le telefonate. E questo palinsesto, questa programmazione estiva, un po' diciamo cabriolet, se vogliamo utilizzare un termine per colorirla un po' con l'espressione, ci porterà, ci traghetterà fino al 15 settembre. Lì entreranno dei nuovi format, stiamo già pensando dei nuovi format interessanti. Arriverà anche qualche personaggio nuovo. Posso già anticipare, una cosa la posso anticipare. Non so se poi mi taglieranno. No, ma no. Sei nel talk show politico. Uno dei personaggi della prossima stagione televisiva sarà Francesca Russo. Francesca Russo, un bel personaggio televisivo. Con lei stiamo pensando, non diciamo il nome del format, stiamo pensando un format nuovo, incredibile, molto vicino alla gente, fatto con estrema semplicità come lei. Quindi Francesca Russo sarà uno dei volti dell'anno. Sì, non ho avuto modo di seguire delle cose. È un volto solare. L'unica anticipazione che... Beh, questa qui insomma la diciamo a pubblica piazza, così... Così non lo saprà nessuno, lo sapranno tutti a pubblica piazza. Con gli ascolti viai lo sapranno tutti. Insomma, questo è quello che ci aspetta nell'autunno-inverno. Invece, insomma, siamo qui per soddisfare qualche curiosità. A pubblica piazza dobbiamo fare anche questo. Francesco, Pasqualino Maragiano, che è, insomma, adesso vorrei un po' come nasce questo Pasqualino Maragiano, perché tu ne hai fatto uno di taglio nazionale, hai girato l'Italia, ma poi anche uno, diciamo, di taglio regionale. Però questo è un format che va, la gente piace questo cicerone, diciamo, simpatico che gira anche con taglio leggero i luoghi del nostro paese, della nostra regione. Come è nato Pasqualino Maragiano? Intanto perché Pasqualino Maragiano? Tu ti chiami Francesco Cluzzi? Sì, sì, ti spiego tutte e due le cose. Allora, Pasqualino Maragiano nasce in questo modo. C'è l'esigenza di fare un programma all'esterno. E come lo facciamo? Facciamo un programma all'esterno perché fuori ti aiuta la scenografia. È più difficile fare la televisione in studio che quella fuori, no? Certo. Tante televisioni nostre concorrenti fanno solo dei format esterni. È più semplice, è più facile. La cosa difficile è fare lo studio. Fare una pubblica piazza in questo contesto e fare gli ascolti che fai non è facile se non hai un'identità precisa. Ci vogliono ringraziare gli occhi giusti. C'è tutta una serie di cose. Quindi farla fuori è ancora più semplice. Allora, io dicevo, visto che dobbiamo farlo fuori, utilizziamo al massimo questa scenografia naturale. Come la possiamo utilizzare? Ma secondo me, insieme a quelli che hanno inventato con me il programma, che sono Carmine Leone e Fabrizio Volio, insieme a loro, dicevamo, utilizzando le immagini aeree. Le immagini più belle da vedere in Italia sono le immagini aeree. Quindi abbiamo acquisito e quindi anche acquistato una serie di immagini da droni e anche da elicottero. E questo è stato il forte. C'è la parte, diciamo, la peculiarità e il punto di forza di Pasqualino Maragia. Ed è diventato un grande programma, una guida turistica, dove noi raccontiamo il territorio e raccontiamo anche i personaggi del territorio stesso. Accompagnato tutto ciò dalla musica. Quindi è molto importante la colonna musicale di Pasqualino Maragia. Poi perché Pasqualino Maragia? Bisognava dare un nome. Come lo chiamiamo? Giramondo. Avevamo una serie di nomi, ma non ci veniva quello giusto. Allora dissi, siccome conoscevo un po' la storia di alcune canzoni, c'è un personaggio che si chiama Pasqualino Maragia. I miei soci dissero, ma scusa, perché c'entra Pasqualino Maragia? No, vi racconto la storia di Pasqualino Maragia. Pasqualino Maragia è un programma, è una canzone di Franco Migliace e Modugno. Lui era, Pasqualino, un pescatore di Sorrento, che viveva a Sorrento e viveva di pesca e di stenti. Un giorno arriva a Sorrento, Kali, una principessa indiana, si innamora di Pasqualino, preleva Pasqualino e se lo porta con sé in India. E Pasqualino da pescatore diventa Maragia, quindi Pasqualino Maragia. Cosa faceva Pasqualino Maragia? e girava a cavallo del suo elefante per l'India a insegnare la pizza agli indiani. Quindi da pescatore diventa viaggiatore. Ecco perché Pasqualino Maragia. E poi era, vabbè, il nome resta impresso. Un nome di un programma, se tu lo sai scegliere, resta nell'innamorio collettivo. Tu sai che ti stimola curiosità, perché dici, tu guardi il programma e Pasqualino Maragia. Però questa associazione tra, quasi questa disconnessione tra il nome e quello che vedi, quello crea la curiosità, la curiosità del programma. Intanto, dicevamo, ne parlavamo prima, Francesco viene la stagione scorsa a proporci questo occhiuso alle nove. Ecco, noi ci rifacciamo alla televisione americana, perché... Lei è proprio, insomma, plastica. Sì, sì, quando feci l'accordo con la C, avevo due format da fare. Uno era Pasqualino Maragia, che veniva fuori da una stagione televisiva importante con Sky, perché Pasqualino Maragia, nell'estate precedente alla C, andò in onda su Sky, su 180 di Sky, in prima serata nel mese di luglio e nel mese di agosto, totalizzando un milione e mezzo di telespettatori per un'intera settimana. Quindi, numeri molto alti. Quindi, da lì passò alla C, quindi Maduri vide subito il prodotto e naturalmente lo volle. Quindi, Sky, la C per Pasqualino Maragia, quindi feci il contratto per Pasqualino Maragia, ma non solo per quello, anche per un altro format. Che format fai? Fai un format nuovo, innovativo, visto, rivisto, mille volte? No, facciamo una cosa un po' americana. Visto che David Letterman è sempre sulla cresta dell'onda, che ancora veniva passato attraverso i canali, insomma, della Rai, visto che c'era un Alessandro Cattelan che facciava un format tipo quello americano, facciamone anche uno anche noi, è bellissimo fare questo format. E quindi inventavamo questo studio americano, da dove si vedeva New York, eccetera, eccetera, parlando con i personaggi, ma qual era la cosa, il fulcro del programma? Era quello di prendersi in giro, cioè io mi prendevo in giro come conduttore, e mi piaceva anche prendere in giro gli ospiti in maniera molto elegante, in maniera molto garbata. E questo è stato il successo di Occhiuzzi alle nove, che fece degli ascolti importanti e interessanti. Vediamone qualche spezzone. Buonasera, parte Occhiuzzi alle nove, rigorosamente in prima serata. Come dice la nostra sigla, quello è il fratello di Occhiuzzi. Hai un fratello, non si è un fratello. Pavimento pulito, ok, abbiamo pulito il pavimento, ritorna al tuo posto di partenza e facciamo un caro maestro di lavoro. No, io sto aspettando quando chiamerai me a fare la lap dance. No, a fare la lap dance, quello col palo. La lap dance col palo. Eh, certo, perché stiamo preparando il palo. Alla di un lungo viaggio E tu senza dirmi niente hai trovato il coraggio Con l'orgoglio ferito di chi poi si ribella Ma quando t'arrabbi sei ancora più bella E così su due piedi io sarei liquidato Ma vittima sai di un bilancio sbagliato Se un uomo tradisse, tradisse a metà Per cinque minuti e non eri Alessandro Ruvio e Giancarlo Pagano Ciao per te Mi sei portato Mimmo Palermo al sacco? No, va bene Io Martini con Minuetto Domenico Modugno meraviglioso Canzone storica degli anni 60 Wes Dorichezzi un corpo un'anima Canzonissime dal 1974 Little Tony con Cuore Matto E' venuto a trovarmi ospite Maestro Paolo Aragona Dove stai? Bene, grazie Mi fa piacere rivederti in questo nuovo studio E' un piacere sottile Un piacere sottile Con questa nuova trasmissione Mi piace la mia orchestra? Molto Maestro Sorrentino Sì, Sorrentino E poi gli anni 70 fu il decennio Di questa scelta che feci nella vita Di fare musica Ma se pensa agli anni 60 Qual è la prima cosa che mi viene in mente? L'ho citato nella puntata scorsa A Weather Shade of Pain Appuntamento che si rinnova a domani Stessa ora, stessi canali, stesso tutto E non dimenticate questa cosa Ovvero che c'è La 7 La 8 La 9 La 9 Ma c'è soprattutto la C E beh, insomma Insomma, messaggi anche comunicativi geniali In pubblico mi imbarazza sempre So che adesso sono in televisione Stiamo vedendo questa camera Però è... Francesco Rivedendo anche la struttura musicale E' stato un bel programma Sì, è molto bello Mi piacerebbe riproporla qualche puntata Perché d'estate si ripropongono un po' le cose Sì, ma questa qui è una cosa Francesco Insomma, tu da anni Produci, sei autore Quanto lavoro c'è Detto la scelta di un nome Di un format Della grafica Della scenografia Della scaletta, insomma Da costruire Del filone culturale Musicale da seguire C'è un lavoro Tu da anni sei Hai uno staff di collaboratori Insomma, che è sempre lo stesso Noi siamo un gruppo, insomma Che più o meno è sempre quello Ogni tanto c'è qualche new entry Qualcuno se ne va Qualcuno resta Insomma, diciamo La base storica Nel tuo format Tu vedi, insomma Fin anche le inquadrature Sono studiate Insomma, io ormai Da qualche anno Dal punto di vista Che la faccio pure Ma osservo la televisione C'è il cameraman L'operatore di movimento Insomma Lì c'era Fabrizio Avoglio Che ci dava una grande mano Sì Quindi fare un programma Di questo tipo Con una squadra tecnica Come ce l'abbiamo noi Insomma È stato facilitato Il compito E costruirlo Un programma Ci vuole qualche mese Non è una cosa così Che fai Tre secondi Ci vuole qualche mese Un programma di quel tipo Per fare capire Che cosa Quanto lavoro c'è Dietro la televisione E poi vai in giro per strada A fare interviste Alla telecamera Quindi ti alzi la mattina Esci E lo fai Come fanno tantissimi Insomma Sì La televisione È difficile fare lo studio Non l'esterno Sì perché Nello studio Devi preparare Devi preparare tutto Lo diciamo Perché Insomma fare Oltre L'ha detto Francesco Che poi Gli spetta io Lo stimolo Anche a questo Qui c'è una squadra In questa tv Di operatori Veramente Bravi e generosi Diciamo Che sono motivati Anche di stare Ma tutti Insomma Stare dentro Un disegno Guarda maglia Che ci sta inquadrando Eccolo qua Sicuramente L'abbiamo dimenticato Tutti Perché non ci vengono In franco donato Insomma Non ci vengono In me C'è una squadra Che coniuga Diciamo Nuovi Giovani Insomma Motivati Ma anche L'esperienza Di molti Che hanno Che hanno Lavorato Per l'autunno Inverno Cosa ci proponi Tu invece Io Sì Oltre Insomma Io Questa qualche Intercipazione Ce la puoi dare Sto lavorando Un format Ma Sto lavorando Un format Sto lavorando Un format Nuovo Mi piacerebbe Fare un format Nuovo In studio Naturalmente Perché A me piace Molto lo studio L'esterna È chiaro Io sono nato Con l'esterna In televisione Tutti Siamo nati Con l'esterna Però lo studio È quello Io stesso Ho fatto l'inviato Speciale Anche se ho lavorato Sempre in studio Come Diciamo Anche taglio giornalistico Insomma Lo studio Mi permette Di pensare Di fare Una cosa Più ragionata È stimolante Perché ti mette Davanti a una sfida Perché la gente Ha in mente Come si fa La televisione A livello nazionale E fa il confronto Guarda Rai 1 Guarda Canale 5 Guarda Sky Sai oggi Che la televisione Fosse più avanti Dal punto di vista Tecnologico E poi fai il confronto Con quello che fai tu In studio Probabilmente il confronto Non riesce a farlo Con quello che è esterna Cioè con tutti i programmi Che si fanno In mezzo alla strada In quel modo Passa anche inosservato Ma nel momento in cui Tu sei in studio Sicuramente ti Sottoponi a un confronto Con la televisione nazionale È questa la gente Che è a casa Naturalmente lo fa E lì Per quanto mi riguarda Per me è stimolante Stimolante Perché a me piacciono le sfide A me piace mettermi Comunque sempre in gioco E quindi Fare delle sfide nuove Sicuramente Il palizia stavotunnale È molto stimolante È una nuova sfida È una grande sfida Che farà sicuramente La C Francesco Più volte Insomma io Con Francesco Ci scambiamo Quotidianamente Diciamo Dell'opinione Dei consigli Preziosissimi Quelli di Francesco E più volte Insomma Tu hai Dei canoni Intanto non tutti Possono fare televisione Anche se sono Preparati culturalmente Cioè la famosa storia Del bucare lo schermo Dell'identità Quanto conta Diciamo Nel successo Di un format Conta il 70% Se buchi lo schermo Se hai un'identità precisa Allora Hai Il 70% Di chance Nella riuscita del programma Se sei bravo Se puoi anche essere Straordinariamente Preparato Quindi una persona Di grande cultura Ma non buchi lo schermo È un flop Quindi puoi essere Molto meno preparato Però avere questa capacità Di Questo carisma Questa possibilità Di bucare lo schermo D'altronde Insomma Grandi personaggi Che sembravano Poco preparati Poi per la verità C'era anche molto Di costruito Mike Bongiorno Tra i grandi conduttori Veniva considerato Quello che era Meno preparato Culturalmente Culturalmente Rispetto Però era quello Che bucava di più Però Mike Bongiorno Era quello Perché Mike Bongiorno È sempre stato considerato Uno di noi Mike Bongiorno È stato considerato L'uomo la porta accanto Accanto Cioè il telespettatore Vuole identificarsi Era uno di loro Insomma Tutti si identificavano Mike Bongiorno Con questa storia Di emigrazione Lui veniva Dall'America Lui è nato in America Insomma Questa cosa Fece anche Questo personaggio Costruì un bel Che rimase amato Fino alla fine Anche qui Storie lunghissime Di successi Cioè poi alla fine Le sensibilità Del telespettatore Passano le epoche Però più o meno Sono rimasti uguali Dall'epoca Dell'invenzione Della televisione In poi Sì C'è stato Un periodo d'oro Per quanto riguarda La conduzione italiana Noi abbiamo avuto Dei conduttori bravissimi Diciamo i quattro moschettieri C'erano Corrado Mike Bongiorno Enzo Tortora E Pippo Baudo I grandissimi I quattro grandi Tortora Quello più colto Mike Quello più vicino alla gente Corrado L'omorista Corrado La grandissima ironia Di Corrado Ecco Quello È un modello di conduzione Che secondo me Non tramonterà mai Quella di Corrado Perché Corrado Si prendeva in giro E prendeva in giro Anche gli altri In una maniera Molto garbata E elegante E poi Baudo Baudo L'uomo della televisione È stato quello Che ha attraversato Varie generazioni E ancora oggi L'anno scorso Fece l'edizione Di Domenica In Si difese abbastanza bene Anche oggi Che è a un'età È quello che ha Una presenza È un grande professionista Anche la capacità Di Insomma Questo mestiere Poi Il conduttore Ma molti si sono ispirati A quei modelli Tutti noi Ci siamo ispirati A quei modelli Per esempio oggi Se tu Dovessi definire Tra questi Nuovi Diciamo Quelli che Chi ritieni Che sia il più Ma oggi Secondo me Il più bravo conduttore italiano È Paolo Bonolis Non c'è dubbio Anche per cultura Ma anche per capacità Di stare E anche per quell'ironia Che ha Di prendersi in giro Di prendere in giro Che secondo me È una ricerca Un matador Che appartiene a Corrado Però Paolo Bonolis Penso sia il più bravo Del conduttore italiano Un matador Esatto Bene Insomma Il nostro tempo È scaduto È scaduto Però Mi conserverò Mi registrerò Questo programma Mi conserverò Questa registrazione Tra le cose più No No Invece io Lo metterò Tra gli ospiti Con cui ci si diverte Di più Perché Grazie Noi lo diciamo Io poi sono uno Che non è che vado Sulla senza ipocrisia Ogni tanto abbiamo Siamo ospiti Che dobbiamo gestire Con grande Fatica No In questo caso Insomma Il nostro Francesco Occhiuzzi Insomma Il nostro direttore Dei programmi Ma è una persona Straordinariamente Gradevole Amabile Anche Sul piano Umano Speriamo Che questa collaborazione Che ringrazio Possa proseguire Con la C E che la C Insomma Questi sono gli uomini Di la C La puntata È servita L'abbiamo Detolata appunto Dove I programmi Dove va La programmazione Di la C Perché Insomma Vogliamo anche Far comprendere Ai telespettatori Che questa è la grande squadra Di la C Persone Dalla grande competenza Dalla grande modestia E umanità Però Fior di professionisti Dietro a tutto questo Insomma C'è un lavoro Consentimi Abbiamo salutato Ringraziate tutti Io vorrei ringraziare anche Il direttore di rete Franco Cilurzo Che è È un po' Deus ex macchina Della televisione Si muove tutto Tutti i mezzi Si muovono Proprio Grazie anche Alla sua professione Non c'è dubbio Franco Cilurzo Che è Insomma Il nostro direttore Di produzione Anche lui È un uomo Dalla Dalla televisione Del passato Anche lui è un uomo Che inventò la televisione Grande competente Insomma Veramente Dei costruttori Della televisione In Calabria Insomma Nella grande televisione Calabrese E non solo calabresi Insomma Franco Cilurzo C'è È un grande organizzatore Insomma Dietro a tutto questo C'è una squadra Tra l'altro Il nostro editore È uomo Che Insomma Vuole la squadra Insomma Lui non Ha bisogno Di dare Quella struttura Di cui parlavi tu Per mettere in campo Diciamo E poi Governare Un sistema complesso Perché quello televisivo È un sistema complesso Il singolo Il singolo Non vince La squadra Sicuramente vince La ricetta di Maduro È quella giusta Grazie A Francesco Chiuso E mi raccomando Seguitelo Per questo Format Straordinario Che sta andando In onda Che è veramente Bello Di livello E anche Diciamo Estremamente Estivo Estivo La nostra puntata Finisce qui Ciao Francesco Chiusi Alla prossima Alla prossima